Un saluto a tutti i ragazzi del Paglio di Cesena. Invito tutti a venire qua al nostro evento, alla MotoGP de Bosca. Un grande evento che si farà tutti gli anni a settembre ed ora in poi. C'è un gran divertimento e moto d'epoca. Ciao a tutti! Ciao a tutti! Ciao a tutti!